Nel corso delle prove ufficiali, dove abbiamo avuto uno dei momenti più emozionanti ieri in diretta nella Superpol, il nostro regista ci fa vedere il numero da brivido, sesta, quinta, Gordon, dici subito le impressioni. E questa è una scicando che si entra circa 180 l'ora, abbiamo visto che Fabrizio è entrato molto più forte, 4-5 km rispetto a un giro normale, ha preso il cordolo, la macchina si è alzata molto, abbiamo visto delle stresciate, delle scintille.